Mi gioco la macchina del fango, gioco al quiz che condanna il turio, sa di interrogatorio di chi mi sta distrattando. Strategia del fango, bentornati alla nuova puntata delle Fritte. Ciao Marco. Ciao Pietro, ciao a tutti. Questa settimana affrontiamo nuovamente uno dei nostri cavalli di battaglia, parliamo in qualche modo di emigrazione, non italiana ma parliamo di immigrazione in Italia, e comincio con una piccola provocazione Marco, con quello che è stato il leitmotiv più o meno fino a qualche settimana fa, non tocchiamo la legislazione sulla immigrazione, altrimenti vince la destra. Questo è stato un po' il leitmotiv politico, è forte dirlo così, ma oggi con il governo Draghi, dove anche grossi pezzi del centro-sinistra governano con la destra, questa cosa va a cascare, ma ho detto questa cosa anche perché in realtà con questa scusa non si è proprio modificata in maniera sostanziale la legislazione che io a me piace chiamare emergenziale sull'emigrazione, che negli anni si è sedimentata, abbiamo ricordato i decreti Salvini, 1, 2, il conte 1, fondamentalmente chi è venuto dopo, pur avendo forse le migliori intenzioni, non ha modificato sostanzialmente l'approccio securitario nei confronti dell'immigrazione, creando una situazione che oggi andremo un po' a dettagliare, come al solito, con dei dati. Allora Marco, ci pare di capire che la magistratura italiana stia andando giù pesante su una serie di organizzazioni. Come dicevi te c'è un problema a monte, no? Nel momento in cui resta il reato di immigrazione clandestina, una serie di procure continuano e vanno come un treno, nonostante stiano sostanzialmente sbattendo la testa al muro, perché poi queste accuse cadono, ma continuano ad attaccare pesantemente le organizzazioni non governative e chi agisce per salvare i migranti naufraghi nel Mediterraneo, per evitare che il Mediterraneo sia ancora di più quella enorme tomba che è diventata negli ultimi anni. L'ultimo fatto è la procura di Ragusa, che ha accusato e aperto un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, giusto appunto, aprendo questa inchiesta contro l'armatore e alcuni dei capi missione mediterranea della nave Mare Ionio. Voi sapete che ci sono alcune navi, tra cui un'italiana, l'operazione mediterranea, sostenuta anche da alcune forze politiche, che concretamente non blatera solamente del salviamo vite umane, ha messo i soldi per armare una nave e per andare in mare a salvare i naufraghi. Allora, l'accusa della procura di Ragusa si riferisce a un fatto specifico. Secondo la procura di Ragusa, quando la Mare Ionio recuperò 27 naufraghi che erano stati salvati da una nave mercantile danese, da una grossa compagnia Maresk, e che per 37 giorni erano rimasti bloccati nella prossimità di Malta, perché Malta, un altro paese e governo di criminali, aveva rifiutato l'autorizzazione a sbarcare e a salvare questi naufraghi. Allora, la situazione stava drammaticamente peggiorando, anche da un punto di vista sanitario, anche se la procura di Ragusa, che probabilmente non ha mai passato una quarantina di giorni su una barca fermi dopo essere stati naufraghi, naufraghi, appunto la procura dice no, no, ma non stavano così male, la Mare Ionio andò, prese questi 27 naufraghi e dopo un po' ottenne l'autorizzazione a sbarcare a Pozzallo. L'accusa della procura di Ragusa è fondamentalmente l'immigrazione clandestina, cioè la stessa accusa che fu fatta contro Carlo Larachete, che fu fatta contro Save the Children, che fu fatta contro Medici Senza Frontiere, tutte indagini che hanno portato al nulla, perché poi in sede giudiziaria prevale il diritto dovere a salvare il naufrago rispetto alla tutela delle frontiere. In più questa volta c'è il carico da undici simpatico in cui si accusa queste persone, queste quattro persone, fra l'altro in una maniera molto squallida, vengono accusate queste quattro persone, si dice no, però Mediterranea come organizzazione non c'entra niente, si accusano di aver fatto questa operazione ricattando, tra virgolette, la compagnia danese chiedendo dei soldi. La cosa divertente, tra diecimila virgolette, è che logicamente i magistrati non hanno interrogato i responsabili della compagnia danese, e questo emerge chiaramente dalle carte, fra l'altro ci ha fatto un articolo molto interessante, molto puntuale, l'avvenire, quindi non bandiera rossa, ma l'avvenire, e la compagnia danese ha veramente dato dei soldi dopo a Mediterranea, ma perché ha spiegato molto chiaramente, non perché mi hanno obbligato, altrimenti non si prendevano i naufraghi, ma perché noi, come tutte le altre grandi compagnie, diamo del denaro e sosteniamo le operazioni delle ONG, perché per noi, parlo le compagnie, è fondamentale, perché il diritto del mare fa sì che se noi, le nostre navi che fanno commercio, incontrano dei naufraghi, noi li prendiamo a bordo, e logicamente il fatto che esistano, viva Dio, le ONG che vengono con le loro navi e che li prendono loro e poi aprono tutta la trattativa, alle compagnie mercantili e sono di estrema utilità, perché in questo caso, questa nave mercantile è rimasta a quasi 40 giorni ferma, perché c'aveva a bordo dei naufraghi, non è che se li poteva portare in giro a destra e a sinistra nei giri di commercio. Quindi hanno detto, noi sì i soldi abbiamo dato, fra l'altro la Maresk è un'enorme compagnia mercantile e non è che, sotto il tavolino abbiamo fatto la mazzetta, c'è un pagamento chiaro o legale e fatto su quale si pagano le tasse e tutto quanto di sostegno alle operazioni. Quello che appunto è particolarmente scandaloso e fastidioso è la strategia del fango, come abbiamo intitolato la puntata, cioè questo continuo a attaccare le organizzazioni non governative sulle loro azioni di salvataggio. Lo sciacallaggio politico collaterale, naturalmente un quarto d'ora dopo che avevano battuto le agenzie e quest'operazione Meloni e Salvini facevano la loro dichiarazione a questi criminali, i profittatori dell'emigrazione sono loro. Fra l'altro, ultima cosa, in quest'operazione abbiamo visto e scattati i primi di marzo con delle perquisizioni a tappeto o negli uffici e nelle case delle quattro persone indagate e perché cercavano le prove? Perché nelle carte della procura si parla letteralmente di plausibile condotta illecita, cioè non è che con le intercettazioni altre cose l'hanno pizzicato, hanno pizzicato uno degli armatori o il capomissione Casarini che chiamava in Danimarca di o me da dei sordi o vedeneti migranti. No, non hanno trovato niente di questo. Quindi veramente siamo stanchi e siamo stanchi fra l'altro di queste operazioni che non è la prima che fanno alcuni magistrati in diverse parti d'Italia. Pochi giorni prima è partita un'altra inchiesta contro Linea d'Ombra che è un'associazione che aiuta i migranti della rotta balcanica. Una questione che noi abbiamo trattato in una delle precedenti puntate delle Fritte. Allora, questo anche quando si parla in genere la magistratura, la magistratura è un baluardo della democrazia. No, ci stanno magistrati e magistrati, ci stanno magistrati che sono veramente esemplari e ci sono i magistrati che stanno dalla parte dei potenti e vanno contro i deboli in continuazione come nella storia della magistratura è sempre stata. Esatto. Diciamo, chiudendo questo punto che tu hai sellevato, Marco, sarebbe ora che in Italia questo effetto supplenza della magistratura nel mondo politico e nella vita di tutti i giorni rientri nell'alveo costituzionale perché è chiaro che ci sono dei casi in cui la magistratura interviene, abbiamo citato prima quello dei riders, la magistratura è dovuta intervenire in supplenza alle leggi che non sono in qualche modo applicate e che non sottolineano delle cose che sono chiarissime. Un rider è un lavoratore dipendente di una piattaforma, non è un indipendente. Questa cosa era chiara come il sole ma il mondo politico preferisce dare la responsabilità alla magistratura di fare questi passi. A volte sono nella direzione che a noi potenzialmente piace, a volte ci sono situazioni come quelle che abbiamo citate che sembrano più dei teoremi costruiti in queste situazioni. Allora Marco, direi che per chiudere credo che possiamo attaccandoci a un altro fatto di cronaca recente, speriamo che il nuovo, pare essere il nuovo presidente, il nuovo segretario, segretario del PD e noi stiamo registrando da qui a lunedì magari lo diventa sul serio, o gli insegano le gambe immediatamente, se non succede qualcosa, Enrico Letta possa in qualche modo intervenire in questa situazione perché in passato sia per storia personale gestito in qualche modo una parte di Mare Nostrum, l'ultima grande iniziativa anche da parte europea che aveva come obiettivo quello di salvare le vite, ma insomma anche il PD un paio di anni fa quando le ONG erano in mare ed erano attaccate in maniera violenta dal ministro degli interni di allora era intervenuto in qualche modo per sostegno, quindi speriamo e facciamo come dire se ci ascolta qualcuno di loro ci ascolta noi lo sappiamo che qualcuno di loro ci ascolta perché lo sappiamo intervenga da questo punto di vista. Finalmente escano dal mondo di Minniti e noi saremmo contenti se entrassero in quello di Letta veramente da questo punto di vista almeno dal punto di vista dell'attenzione nei confronti di chi salva i migranti. Esatto. Marco, chiudiamo con una piccola chiosa mi sembra perché nel frattempo sulla questione vaccini è successa un'altra cosa un po' sgradevole. che nonostante il potente intervento delle fritte all'Organizzazione Mondiale del Commercio Stati Uniti e Unione Europea in primis con tutti gli altri paesi ricchi Giappone Canada Inghilterra hanno bocciato definitivamente la mozione dell'India e del Sud Africa per sospendere la validità dei brevetti. Quindi nelle mani dei Big Pharma nelle mani delle grandi multinazionali compreso di quei banditi di AstraZeneca che continuano a parte i problemi sanitari a non fornire le dosi che avevano millantato di poter fare. Noi vi ringraziamo di aver ascoltato questa nuova puntata delle fritte vi diamo appuntamento alla prossima settimana a presto Ciao ciao